I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato beni per un valore di circa un milione di euro a due persone socialmente pericolose di 49 e 74 anni. Si tratta di un pregiudicato mafioso barcellonese e di un ex consigliere comunale di Giardini di Naxos, in provincia di Messina. I provvedimenti sono stati emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina, su richiesta della direzione distrettuale antimafia Peloritana. I sigilli sono stati messi a due unità immobiliari nella zona residenziale dell'area balneare di Barcellona Pozzo di Gotto, a un fabbricato a Giardini Naxos e a conti correnti bancari intestati ai due.